E c'è una famiglia divisa, come spesso avveniva nel passato, come approcci può avvenire. I notti, il nonno in particolare, devoti al gran gruppa di Ocordo II. I genitori, il padre in particolare, invece sostenitore del sostenimento. E il 27 aprile 1859, cosa vede questo bambino dalla finestra? Una grande manifestazione in piazza, e allora si chiamava Piazza Barbato. E vede in casa sua una bandiera che era stata cucita, che viene messa dalla finestra. E questa bandiera è una bandiera per il colore. Quindi questo bambino racconterà dopo che ci sono le impressioni di questo momento. Quindi una testimonianza molto toccante di un bambino di questo momento. Guido novi di memoria frontale. E l'ultimo libro, invece, è il di mia realizzazione. Quindi Giovanni Saldi, Michele Saldi, Michele Saldi, le memorie e l'archivio di un figlio lorenese. Questo mio libro si intitola Michele Saldi, le memorie e l'archivio di un figlio lorenese. Questo libro è invece stato pubblicato da una casa elettrice esistente. La casa elettrice Nikonqua, di piazza Marona degli Ottocondini, ed è uscito nel 2007. Quindi un libro più recente. Questo di Nobili è invece, anche se è stato ristampato, 1965. Vedete che purtroppo talvolta si hanno queste sorcese. Chi è Michele Saldi? Michele Saldi è un personaggio chiave per comprendere questo periodo di storia poscana. Perché era il capo della gendarmeria del Pernodale. Quindi il responsabile sostanzialmente della polizia del Pernodale. E Michele Saldi è un fedelissimo sostenitore di Leopoldo II. E Michele Saldi è direttamente coinvolto nelle vicende del 27 a 258. C'è questa grande manifestazione in piazza Barbana, oltre in piazza indipendenza. E di gran'ora, di fronte a questa realtà e di fronte all'inizio di fatto della seconda guerra di indipendenza, decide di abbandonare le cose e di trasferirsi in aprile. Per questo voi trovate via 27 a 258 e piazza indipendenza. Perché il 27 a 258 è il mio progetto di Quartanovo. Leopoldo II lascia a Firenze. E la piazza, che è stata il simbolo di questa manifestazione, diventa piazza dell'indipendenza. Ma Michele Saldi che ruolo ha? Ha un ruolo importantissimo. Perché come sempre avviene la polizia di fronte alle realità politiche, cosa cerca di fare? Di mediare la piazza. Chi è uno dei capi della manifestazione del 27 aprile 1814? Chi è dunque uno dei sostenitori del nuovo corso politico? E' uno dei maggiori oppositori di Leopoldo II in questo 1859. E' un rettobanchiette che si chiama Emanuele Fensi. Emanuele Fensi. Ma questo palazzo in cui noi siamo, come si chiama? Palazzo Fensi. Dunque, questa era la casa del banchiere Emanuele Fensi. Poi uscendo dal dipartimento, subicete il portiere, volgete lo sguardo verso sinistra, che ha un gusto che quasi nessuno mai nota. E chi è quell'uomo di Emanuele Fensi? Dunque, questo palazzo è direttamente coinvolto nel 27 aprile 1849. che si chiama Emanuele Fensi. Cosa fa? Mi chiede salvi. Il gran Luca deve andare via. Cosa occorre? Massima valutazione, tranquillità. Nessuna manifestazione positiva. Quindi, il capo della polizia incontra i capi dell'opposizione e parla chiaramente. Voi non vi muovete, noi non ci muoviamo. Ecco, dunque, il ruolo straordinario di Michele Saldi. Leopoldo II renderà la via bolognese, la via che naturalmente porta a nord, senza nessuna manifestazione ospede. Massima valutazione, tranquillità. Perché le due parti si sono accusate. Michele Saldi ha lasciato un diario, un diario interessante in questi momenti, che praticamente questo mio libro illustra questa figura e riporta il diario di Michele Saldi. Un diario rimasto manoscritto, inedito, che viene pubblicato qui per la prima volta. Dunque, vedete, questi testi sono testi vari, assortiti. Ma prendiamo ora il via. Leopoldo II. Quando comincia il suo grandiname? Eh, lo comincia a sorpresa. Lo comincia a sorpresa perché suo padre, Ferdinando III. muore, muore inaspettatamente, relativamente giovane, ha 55 anni. Perché Ferdinando III scompare il 18 giugno 1824. 18 giugno 1824. Ferdinando III amava moltissimo un'area della Toscana e ad essa si era dedicato per bonificarla. era un'area, una palpitiana, dunque nel territorio di Arezzo, molto malarica, un'area fondosa, ma sana e Ferdinando III aveva cercato il più possibile di bonificare la palpitiana. Nel giugno 1824 aveva compiuto una visita per controllare i lavori che venivano fuori. Per controllare queste offre di bonifica di palpitiana. Giugno. Mese di Vito. Molto delle cose per le zanzate. Naturalmente queste zanzate non rispettavano le gerative. E chi viene ripetutamente punto? Ferdinando III era andato a espressionare questi uomini. E Ferdinando III si amava di malaria. Una forma gravissima, una malaria perniciosa e una volta. Quindi Ferdinando III muove di malaria, muove per verificare e per controllare i lavori che vengono fuori. Il 18 giugno 1824. La malaria causò sempre molte morte. Noi possiamo ricordare un'altra morte illustre a causa della malaria. Camillo Capur. Camillo Capur. Camillo Capur produceva nella zona di Pieri, vicino a Perceglie, risu. Camillo Capur. Anche lui. Si recava teoricamente a controllare le sue trume. Anche lui si ha ammalato di malari. E poco dopo aver festeggiato il Regno di Capur nel 1861. Quindi vedete questa malattia, una malattia sempre ricorrente, sempre incombente. La malaria, pensate, è scomparsa dall'Italia tra il 1940 e il 1949. Non sono molti anni, 70 anni, tra il 1948 e il 1949. Perché la malaria è scomparsa? Questo è molto interessante. Venne defisa, con l'intervento del governo degli Stati Uniti, una campagna per distruggere radicalmente questo fenomeno asiatico. L'Italia era invaso dei maluti, invaso dei zanzari, la no fede e la zanzara che in particolare trasmette la malattia. Cosa ha deciso il governo americano? Un'operazione che oggi sarebbe assolutamente impossibile, impensabile. C'era un prodotto che era un velo potentissimo, ma che veniva usato con la massima di rinforzamento. Aveva una sigla, DDT, uccidevano i zanzari senza nessun problema. L'Italia riceveva dagli Stati Uniti quantitativi impressionanti di DDT. furono pagati, operati, per rispondere di DDT in tutti i corsi d'acqua, nelle maturi, nei fiumi, nei russenti, nei ricoli fiumi nuovi. L'Italia fu inondata di bambini, quindi avvelenata completamente. Chi morì? Mosche, tantate, sicuramente anche rame, la morte, tutto, tutto questo che c'era. Furono curati, i malalti, i malalti, in modo che raggiungessero uno stadio della malattia in cui la malattia non fosse più contagiosa. Le zanzare si tormentano oggi, certamente lo sapete meglio di me, e le zanzare sono distanze nel quattro tempo, tutti è ritornate. E' ritornata anche la morte. Certo che è ritornata anche la morte. Ma esistono malati contagiosi di malaria che possono essere punti? Quindi sono casi rarissimi oggi, persone che sono state in Africa e non hanno potuto trovare la possibilità antimalarica e così via. Qualche immigrato che può avere la malaria. Ecco il punto, dunque. Oggi le zanzare ci sono, ma non essendoci malati contagiosi di malaria, ma non esistere tutti. Questa operazione incredibile, vediamo un più trafai, il 1908 e il 1909. Semplicate la cosa di vedere a casa buona che è scritto in nero 1948, 1949, DDT. vuol dire che quella malaria che sta in ruota con il DDT in questo periodo. Ecco dunque 18 giugno 1824. Ferdinando III muore. Com'era Ferdinando III? Guardiamo in un ritratto di allora. Ecco il gran numero Ferdinando III. Questo è un ritratto eseguito un po' prima. È un ritratto eseguito da uno dei maggiori infidori predenti nella Firenze di Andorra, Raffaello Morgan. Raffaello Morgan era un bravissimo incidore e questo è Ferdinando III. E questa incisione, questa incisione è del 1821, 1821. Quindi di tre anni prima della sua morte. Naturalmente Ferdinando III ha un abito di corte, con una grande croce, sul testo, sicuramente è un incisione e quindi noi non possiamo vedere bene il colore, che è una grande croce rossa a coda di rondine, vedete? Perché è il donire di Santo Stefano Nordine Meliceo, che nel futuro regna avevano poi il procedimento. E quindi lui è il gran maestro delle donne di Santo Stefano e ha questa grande croce, croce rossa sul testo. E Ferdinando III muore e dove avviene il suo generale. E il funerale è interessantissimo. Il funerale viene effettuato nella chiesa di Santa Felicità, di Santa Felicità di Gericiabili, che dà il processo di esperimento per figlio, perché Santa Felicità è una delle chiese vicine di Ferdinando III. E c'è una lunga orazione, un ebrevo, del Vescovo Timurno Gilardoni, che celebra Ferdinando III, proprio perché ha saputo conservare la libertà civile. Queste sono parole molto santi. Ha saputo conservare la libertà civile. e inumera le virtù del grande, la prudenza, il consiglio, la modellazione, soprattutto la generosità nel perdonare le ingiurie e nell'onorare la virtù, anche nei suoi più irragionibili e dichiarati nemici. Sono delle parole molto interessanti che deve venire a pronunciare. Ha saputo conservare la libertà civile e quali sono le sue virtù. come vi ripeto, la prudenza, il consiglio, la moderazione e soprattutto la generosità nel perdonare le ingiurie e nell'onorare la virtù, anche nei suoi più irragionibili e dichiarati nemici. Che ha detto queste parole? Cosa ha mai fatto Ferdinando III? Ferdinando III comincia il suo gran giocato nel 1790. Quale periodo drammatico sviluppe? E' tanto, è tanto leonica. Anzi, che finando III è veramente uno straordinario, per certi aspetti noi soffremmo definirlo un antipulfonista. Ma poi non è qua qualche mondo viene in Italia. Ma la famiglia buona parte è raccorda. Generale della Repubblica, francese, stessamente. Ma poi gli origini è arrivato. La famiglia buona parte, di dove entra l'unità in Italia? E' la verità. La famiglia buona parte è una famiglia buona parte. Di dove erano i binari? Di una riccavina delicosa, in provincia dell'Italia, San Minianto ha ottenuto. Così veniva detto un tempo. San Minianto ha ottenuto. La famiglia buona parte era una famiglia della noventà di San Minianto. Quando una buona parte si iscritte all'Accademia Militare, qual era il rifiuto fondamentale che è ammetti all'Accademia Militare, nel Regno Militare? La noventà. di pari dove erano i binari di San Minianto di San Minianto di San Minianto, Domini di San Minianto di San Minianto, un generale di San Minianto di San Minianto di San Minianto di San Minianto. E ecco lo posto il grande passo di Gostama e testimoniò che la commessa non va a fare, ma non è un'altra cosa. E Napoleone, il medie del segretto, l'apertura, si parla di oggi, con il testo, si parla di loro, da un'attività, che fa proseguire il suo itinerario di trionfo. Il Pionco che è giunto a Bologna pensò di fare una democrazia. Chi aveva Napoleone su una parte a San Vignato? Un procchio, il panorico del Duomo di San Vignato, un figlio di poco buona parte, un trenato. E Napoleone, generale vittorioso, celebrava in quel momento cosa pensò di fare una visita privata a San Vignato? Chiede il permesso di poter entrare. Lo sa, naturalmente, andò a San Vignato, incontrò il suo parente, il suo prozio, il panorico del Duomo di San Vignato. Una parte, quando Ferdinando III, che questo generale, che era stato rapace di sconfiggere i suoi familiari, a San Vignato, che avevano perduto Milano, era vicino a tutti. A San Vignato, ecco il tratto singolare. Cosa fece per Milano tecnici? Dice che erano una visione, una visione, una visione, ma è per conoscerlo. Un titolo va desiderato. L'unitolo franzi. E Napoleone può fare. Di fronte a un invito, così gentile, così generoso, di un nemico. Anche se non erano nemici per Milano III e San Vignato, ma la Francia era nemica dell'Ospia, sostanzialmente venne a Firenze e a Franco, a Franco, a Franco Vignato. Nasce una adicizia straordinaria. Franco, Leone, con la parte di Milano III, erano due. Scoprirono? Sessantanove. Napoleone, con la parte, era nato nel 1769, Ferdinando III, era nato nel 1769. Naturalmente non c'era nessun problema finico, perché Napoleone, con la parte di origine, era nato perfettamente. Ferdinando, come Ferdinando III, che era nato nel 1769. Ecco, ecco dunque uno dei tratti interessanti. E Ferdinando III è celebre, ecco le parole, per aver valorizzato anche personalità, figure legate al mondo nazionale. Napoleone, con la parte, con la Toscana. Tra i miei occhi, alcuni suoi fedeli ministri. Tra i ministri più fedeli premiati da Napoleone, con la Toscana. Vittorio Fossombroni. Vittorio Fossombroni. Vittorio Fossombroni. Vittorio Fossombroni di Arezzo. Se voi andate a Arezzo, trovate il suo monumento di Conte alla Chiesa. Vittorio Fossombroni. Vittorio Fossombroni era stato novilizzato da Napoleone. Il conte Fossombroni. Voi vedete, ancora una volta, in un altro ritratto, ecco il conte di Vittorio Fossombroni. Servì magnificamente Napoleone. E Fossombroni riprese la bonifica della Bacchia. Guardate. E quando Ferdinando III ritornò sul trono Toscana nel 1814, tutti si aspettavano defurazioni, vendette. Ferdinando III non conti nessuna fedurazione, la Bacchia. Dissi Fossombroni. E' stato un ottimo ministro del Naturo. Sabana, che è il mio ministro. Ecco le parole del Cristo. Vittorio Fossombroni. Un uomo pronto a capire. Vittorio Fossombroni. Conte Napoletone. Servì perfettamente. Ferdinando Terra. Ma nel 1824, ecco il nostro Leopoldo II. E il Leopoldo II nel 1824, quando il padre muore. Quanti anni? 27. Era nato nel 1797. Quindi a 27 anni. Giovane. Granduna. Conte Napoletone. Ferdinando III. Ma Ferdinando III era amato in Austria. Era amato, per esempio, per aver voluto come ministro filonapolone. No. Assolutamente no. Chi era dietro le quinte in Austria che vedeva in una maniera nefasta il grande padre Toscana come un luogo in cui si sostenevano i subversivi. Il grande protagonista del complesso di era. Chi era? Il principe e l'elemente di Metternich. Metternich era un uomo di grande capacità. Ma, indubbiamente, non c'era finissimo. Ma... Teneva il controllo della situazione. Teneva gli ordini. Teneva nuove realtà negative. E diffidava di fede. Ma, comunque, il Fernando III, Metternich, attiva le mani di mano. Perchè... Perchè il Fernando III era il fratello dell'imperatore francesco. Cioè, praticamente, il Fernando III era il fratello del Nascimento. Il clima creato a Firenze è un clima straordinario, a Firenze i sostenitori di Napoli non venivano e infatti ci troviamo a Firenze. Ci sono bellissime testimonianze che aveva scusato la sorella di Napoletone, la celebre Paolo Vinda, resa in morciale da Roma. Aveva scusato il principe Borghese, Camillo Borghese di Roma, una delle famiglie più importanti. Certo. Camillo Borghese, grande giusto che non è una stessa. Penso bene a si baccare con i mani e di venire in un luogo dove si debba respirare in aria. Certo. Dove vende Camillo Borghese? Certo. Naturalmente Camillo Borghese esiste, legato al clima culturale del momento. che si vede in un luogo che è un luogo comunque che l'aveva montato da immobili via di vivere e carico un architetto, un architetto baccano, un architetto neopassico di creare un palazzo di fare una facciata che fosse ispirata a quel mondo del neopatticismo che proprio gli anima e le onze che avevano portato alla luce e ancora oggi noi abbiamo, a fine che si fa passato così, se in piedi Regina è un esempio straordinario di neopatticismo, ma non solo, la stessa famiglia Bonaparte in uno dei suoi esponenti Giuseppe Bonaparte era che non ha l'accidente e Giuseppe Bonaparte viveva, aveva preso in affitto il palazzo di una possibilità che si lungavano così, ecco vedete la presenza, la presenza di figure legate al mondo maturonico, che prima diventerà una monta di piedi, quando però nel 1824 Ferdinando terzo, un movimento, un 27enne invece si potrebbe, se lo conto secondo, cosa pensò tu e tu e tu e tu e tu e tu è il momento di frenare questo il nome, fargli capire chi comanda, che viene inviato un domandico di grande esperienza, il conte di Bonaparte per parlare giusto a Leopoldo II, ma Leopoldo II è molto abile, lo sapete Leopoldo II? aveva grande estima, grande fiducia, che fosse un domandico, era stato ministro a Leopoldo II, era stato ministro Giuseppe Bonaparte, sarà ministro anche Bonaparte, ma come Leopoldo Giuseppe Bonaparte? E quando il conte di Bonaparte chiese a Leopoldo II, e Leopoldo II giocò alle grandù, apparentemente inesperto, e gli disse che lui non aveva capito, non lo poteva parlare, c'era il suo ministro Sosomromi, non lo poteva parlare con lui, e Sosomromi, parlò, 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 senza concludere il mondo, metterli e capi subito che le cose erano molto difficili, e che non si poteva tenere al freno, nemmeno questo gruppo, nemmeno questo gruppo, nemmeno questo gruppo e com'è? Bene, prendiamo un altro ritratto, l'ultimo, com'era Leopoldo II, ecco, un Leopoldo II gioconite, che è diventato la nuca, e vedete? Interessante, Ferdinando Serso come il vestito, ha la grande croce di Santo Stefano, questo è un recano un po' più piccolo, e il gran nuca ha di nuovo stesso abito con la croce di Santo Stefano, con il gran nuca, e l'ultimo dei Cavaliere di Santo Stefano. Dove aveva sede l'ultimo di Pisa, se voi andate a Pisa trovate la bellissima piazza dei Cavaliere, la sede dei Cavaliere di Santo Stefano di Pisa, oggi è la sede e la più importante università, la scuola, non ho mai saputo, e si trova appunto un po' a Pisa. Ecco, il giovane Leopoldo II, 27 anni, 1820 anni, e Leopoldo II, come vuole cominciare, in modo profumare. E per cominciare nel modo profumare, sempre tutti i governanti cosa annunciano? Niente di nuovo sotto il sole, riduzione delle tassi. Quali tassi però riduce? Leopoldo II, riduce la tassa sulla carne, sulla macellazione. Quindi la carne diventa un po' fino a più moderno. Questo crea un favore straordinario. E poi riduce, cosa interessantissima, la tassa sui immobili. e quindi anche questo crea un favore straordinario. L'opoldo II, dunque, inizia il suo, traducato all'insegna della continuità. Possono romi sempre, ma bene. E all'insegna di una nuova attenzione, alle necessità popolare. Per esempio, il problema delle tasse. Si crea però un clima di particolare generanza. E noi troviamo quello stesso 1824, praticamente l'inizio di una splendida attività che è legata a una delle figure più interessanti, più interessanti tra gli operatori culturali presenti a Firenze, in questo momento mondiale, di Giovan Pietro di Este. Giovan Pietro di Este è una notizia che ha centro Firenze, come centro culturale. di Giovan Pietro di Este. Giovan Pietro di Este. Giovan Pietro di Este ha scelto Firenze come centro di Giovan Pietro di Este. Giovan Pietro di Este. Giovan Pietro di Este è una città internazionale, frequentata da intellettuali, artisti, amicuali, un centro straordinario di cultura, di vivacità. Però, cosa è? C'è molto provincialismo, c'è molta ignoranza di quella che è la realtà internazionale, oppure un centro internazionale. Giovan Pietro di Este prende in affitto un palazzo, una piattaforma e, in un piano, in un altro, crea il gabinetto scientifico letteral. Che prenderà con il suo nome, il gabinetto di Este. E cosa fa? fa abbonamenti alle principali riviste stranieri. Quindi, giornali inglesi, giornali francesi, giornali tedeschi, giornali russi. Uno straniero, a Firenze, entrava nel gabinetto di Este. e aveva a disposizione valore, controllo, divano, con tutte queste viste che poteva vedere, sfogliare, consultare. e, entro un tempo, questo gabinetto intende un centro di incontro, di cultura, di trasmissione delle idee. straordinario. Esiste oggi, a Firenze, un luogo in cui noi possiamo trovare le principali riviste europee. e, potremmo dire, le principali riviste del mondo. No, non esiste. Nella silenzia di questi anni, c'era il regalimento di Este. Naturalmente, il di Este, che era un abile mercante, faceva accogliare un accoglamento. ci si arrumava, e si poteva frequentare il gabinetto, trasporre le interi giornali, a sedere, a conversare. questo centro di medinetto straordinario. E, in este, cosa pensa anche di fare? Di fare un artista. perché lui si introdizza anche di fare una rivista. E come chiama questa rivista? Antologia. Antologia. e l'antologia di sé è molto interessante. E l'antologia di sé quando inizia le pubblicazioni. e l'antologia di sé si occupa di uno dei problemi che saranno più presenti nella Toscana dell'inizio di Toscana. C'erano livelli altissimi di avvocatismo. Occorrevano fuove, fuove popolari. e accanto al di sé noi troviamo alcuni dei grandi protagonisti della nuova pedagogia. Piesè, in Svizzero, si ispirava a un altro genio del Svizzero, pedagogista di Stalotto. e la figura di di sé è straordinaria in questo momento, proprio perché non solo legame con il mondo della cultura straniera, ma anche con una operatività presente in Toscana. e noi troviamo accanto al di sé, che è un problema educativo, un'altra figura interessante è Raffaello Lambbrustini. Raffaello Lambbrustini. Lambbrustini diventerà celebre per la trasformazione in una sua rivista. Lambbrustini, a quale luogo della costana era legato? Lì, nel Valdana. E in particolare, lui era proprietario di Iposa, quindi, nel Valdana. E' la fattoria di San Cervone. e poi è diventata celebre legata ai sette storie, a lungo ospedale. E della Bustini è credita a un interessante esperimento. Il Valdana vuole creare una scuola in cui contadini, membri della borghesia, membri della gastrocrazia, erano tutti insieme. Tutti insieme per imparare. E quindi noi troviamo, in questo periodo, grande attenzione a distribuzione. e si sviluppa un metodo che poi, ovviamente, è stato abbandonato, ma che per allora era un metodo estremamente interessante. Il metodo del Recifro con Insegnamento. Così veniva chiamato. Nella stessa aula erano presenti bambini di diversa età. Quinta, seconda, terza, quarta, quinta elementare. Chi sapeva leggere e scrivere, chi non so cosa fare. I più grandi dovrebbero seguire, i più piccoli. Ecco il Recifro con Insegnamento, vedete? In modo da attuare i vari maestri, in modo da sviluppare il più possibile. Non prendere tempo. Non prendere tempo. Non prendere tempo. I grandi insegnavano i più piccoli possibili. Quindi sviluppo il più possibile di sviluppare. e il Regio Contro Secondo prende le reggini di tutto. E noi vediamo nel 1825 la pubblicazione dello strumento più importante presente sempre nel Granitato di Toscana. L'almanacco, l'almanacco di Toscana. L'almanacco è, anche oggi, uno strumento prezioso per le storie. Per chi voglia studiare, per esempio, la storia di Granitato di Toscana. E l'almanacco era un libro di piccolo formato. Vedete? Molecolo formato. Questo di Juan Deo, nel 1825. Cioè, il primo ammanacco di Toscana. E, dal manacco, al manacco della Toscana. Per l'anno 1825. Vedete, nel fronte scritto c'è una donna. Una donna con un manto. Nello sfondo c'è la pucola del pò. E chi è? È la Toscana. A Toscana si parla direttamente. E, come era sempre l'almanacco. Che cosa si incomincia ancora oltre un'agenda. Si incomincia con il calendario. E, chi compariva? L'altro sfondo. Ecco di nuovo. Vedete? Chi contava l'almanacco. aveva un'immagine di aggrave di Toscana. Sono tutte incisioni. Ovviamente siamo ancora lontani. Dall'immagine di chi può fotografare. E questo ammanacco. Ammanacco. è interessante. Che cosa contiene? Tutti gli incarichi pubblici. Nelle armate di Toscana. Dipartimento di Stato. Segretario di Stato. Segretario di Stato. E primo direttore delle reglie di segreteria. Chi è? Conte di tutto questo. Noi troviamo immediatamente l'organigramma. Cioè tutti, tutti, al Dipartimento di Stato. Il vertice della Toscana. Il vertice della Toscana. Direttore del Dipartimento di Stato. Il vertice della Toscana. 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 Giuseppe Di Martini, l'unificio noi abbiamo, praticamente noi abbiamo attraverso questo strumento il quadro generale, il quadro generale e possiamo trovare tutti i funzionari, tutti i funzionari, per esempio tutti quelli che noi chiamiamo oggi sindaci e che sono con tempo nominati buon uffalonieri. Arezzo chi c'era? Carlo Avergotti Siri, per esempio, Bittiena, Julino Marcucci, Abugiano, Sebastiano Sanmini e così via, cioè grazie a questo strumento noi possiamo ripercorrere anno dopo anno, perché questo strumento viene pubblicato ogni anno. Quindi noi abbiamo la possibilità di vedere. 1825, è un anno interessante il 1825, soprattutto perché l'Austria non rinuncia a premere sulla Toscana. C'è una visita, una visita importante. chi viene in Italia nel 1825? È l'imperatore Francesco Vini, l'imperatore d'Austria Francesco Vini. E dove va? E va a Milano. Va a Milano. Non è l'Austria, ovviamente in quel momento. Va a Milano e si chiede un incontro. Chi va a Milano? Dioposto secondo. Ma anche questo incontro, anche questo incontro è un incontro destinato a non creare travi problemi. perché, in fondo, Francesco Vini, chi è? È l'Austria. Francesco Vini è l'Austria di Leopoldo II, questioni poche di Leopoldo II. Quindi un incontro esternamente a indipendenza, un incontro trascendente in paremmeno, nonostante di Mierlin e Kiernik, Leopoldo II, mantiene la sua indipendenza. E il 1825 è un anno davvero interessante, soprattutto per l'iniziativa di un celebre medico che è professore all'Università di Pisa. Si chiama Giacomo Barcellotti, un nome purtroppo ben dimenticato. Ma Giacomo Barcellotti è una figura di straordinario interesse. Giacomo Barcellotti è emerso, soprattutto negli anni di Leonardo III, medico di grande impegno sociale. Giacomo Barcellotti è stato protagonista di una vicenda interessantissima. C'è un'epidemia di tifo per l'inchiare, di tifo trasmesso dai chirurgici, sostanzialmente nel grossetano. Giacomo Barcellotti è incaricato di valutare la situazione, di vedere quello che sta succedendo. Giacomo Barcellotti, molto attento, circoloso, in targa, visita. Giacomo Barcellotti prende anche un ritmo di tifo. Malattia estremamente pericolosa, soprattutto allora perché non esiste malattia. e Barcellotti coglie questa opportunità con straordinario coraggio descrivendo tutti i sintomi della malattia, l'andamento della malattia, le piccole terapie che adotta e scrive un'opera che pensava poi sempre nella storia della medicina, è un malattia di tifo per l'inchiare, che descrive tutto ciò che gli sta avvenendo nel vostro. Supererà, fortunatamente. La malattia uscirà, ma la sua descrizione è una descrizione impressionante perché lui ci fa vivere proprio per giorno le reazioni sue. E siamo quasi pronti, fa una proposta nel 1825 che suscitò il massimo valore, ma che più in parte sostenuta da nel vostro secondo, anche se il Covid non si traduzde concretamente in qualcosa di vero. Cosa sotteneva Barcellotti? Che c'erano proprio pochi mezzi. E soprattutto le quaste aree della campagna erano vive completamente i pressi di sanità. medici, lontani, soprattutto da un mondo urlato, da un mondo dei campi, dei contadini. Quale figura era invece presente anche nelle frazioni più sperdute? Il prete. I prete. I prete erano, per esempio, dunque. Perché si durava? Le anni. Ma sembra che invece non la sua boccia, non la boccia. Perché i prete dovevano durare solo le mani? Potevano durare anche il corpo. Potevano avere gli rubimenti di medicina e farmacia e intervenire se un medico non era presente. o per lo meno iniziare in una terapia. E proprio nel 1825, per un grande parco, Giacomo Barcellotti scrive quest'opera. Il parco istruito nella medicina per utilità spirituale e temporale dei suoi cuori. di Audi di Giacomo Barcellotti, professore di medicina pratica nell'Università di Fisa. E questo libro viene pubblicato a Fisa nel 1825. Il parco istruito nella medicina. Praticamente, cos'è? E' un manuale pratico di medicina di Fisa. Sono due rubetti. Si cercò di rispondere. Ma la dieta pose una certa resistenza. E praticamente non si riuscì. Il Parcellotti premette il più possibile il suo fratello era vescovo. E quindi, grazie a lui, qualcosa si poteva ottenere. Ma vedete? E' un esempio straordinario. che incomincia realmente a avvicinarsi alla popolazione. Ecco il problema delle scuole. Ecco il problema della salute. E praticamente sono anni straordinari. 1825, l'opera di Barcellotti è realmente straordinaria. E Teopoldo II pensa anche a un'altra realtà. Questo mondo macroeorico era estremamente pratico. Un mondo estremamente completo. Illuminizzato. Cosa aveva favorito? Naturalmente. Aveva favorito subito per portare a nuove inestabilità. Voi sapete che una delle innovazioni più importanti di cui la parola, che non lo facciamo però, è il metodo. Ma accanto al metodo, quale sistema viene introdotto? Il sistema metodo decimato. Vedete? Vedete le unità semplici, chiari. pensate, il passato. Il passato era una papela affascinante per alcuno, la negazione della paticità. Qual era la misura? Il braccio. Dal vomito, alla fine dell'anno. Il braccio cambia. Ovviamente. E poi, era stato fissato. C'era il braccio di venti, c'era il braccio di nesi, il braccio di santi. Differenze abissali, monete che cambiavano dal luogo al luogo. E tutto questo avrebbe creato grandi difficoltà. Pensate che, nel passato, addirittura il calendario era diverso. Quando cominciava l'anno? A Firenze. Forse il primo di gennaio. Esattamente, no? 25 domani. Cioè al momento dell'annunciazione. L'angelo dice a Maria. Ed è vero. Gesù Cristo. Quando lo dice? Noi lo sappiamo perfettamente. Quando nasce Gesù Cristo? 25 domani. Nove mesi prima. 25 domani. Ecco l'annunciazione. Inizio dell'anno a Firenze. Ma questo anno riguardava in Toscana gli stati? Oh. Lucca, per esempio, seguiva il 25 marzo? No. 25 dicembre. Per cui un viaggiatore andava a Lucca. Chiedeva di che anno siamo. E gli dicevano, no? Veniva a Firenze. Noi attendiamo il 25 marzo dell'anno. Vedete, i primi c'erano grandi differenze. Gli alburgo Lorena, o meglio Francesco lo stesso nome Lorena, già nel 1750, aveva unificato il calendario del Gran Lucca. Inizio primo di gennaio. Da 1750, inizio primo di gennaio. Lucca era stato indipendente. E quindi Lucca, quando mi cava l'anno, il 25 dicembre. Quindi in tutta Toscana, l'uno, Lucca. L'anno mi cava il primo di gennaio. Ma per l'anno mi cava il primo di gennaio. Ma per l'anno mi cava il primo di gennaio. Il 25 dicembre. E cosa introduce nel 1826 o volto secondo? Il sistema metodo decimale. Il sistema metodo decimale che quindi è in costanza. Questo è un altro elemento importante di semplificazione, di innovazione. E viene anche applicato alla moneta. Quale moneta di riferimento era rimasta in costanza? Il fiorino. Il fiorino non era più una moneta d'oro. Era una moneta d'argento. Analoga come il diametro alla moneta di un euro. Il fiorino. Ma essendo il sistema metodo decimale. C'era un centesimo. Un centesimo. Ma come si chiamava? Si chiamava centesimo? No, sicuramente no. Ancora oggi popolarmente quando voi sentite dire una persona molto ricca. Popolarmente cosa dice? Che ha tanti quattrini. Perché il centesimo come si chiamava? Quattrino. Quindi un fiorino. Centesimo quattrini. E il quattrino era una moneta di rame uguale, come diamo, a un centesimo di euro. Un euro cento centesimi. Un fiorino cento quattrini. E questo è molto interessante. Siamo arrivati a un anno davvero importante per la cultura del nostro paese. Non solo della città. 1826. 1826. Firenze è una città a terra, moderante. Culturalmente molto brillante. Vi opera un grande protagonista come il DSE. Questo circolo, questo cabinetto scientifico ha una fama straordinaria. Nel 1827, incredibile, Chi troviamo a Firenze? Due dei più celebri autori della nostra letteratura. Non solo il mezzo. Uno viene dal Vecanale. E chi troviamo? Nel 1827 noi troviamo Leopardi a Firenze. L'altra figura viene da Milano. Ma dove? Ecco che nel 1827, nella Firenze di Tocco del mondo, noi troviamo questi grandi protagonisti. 1827, nella Firenze di Tocco del mondo, che non ha molto denaro, prende in affitto un modestissimo appartamento di Piaveri, di Fronze a Pia dell'Agno, dove c'è una lapide che porta. Ma questa lapide è stata messa al primo piano di Napoli. Nessuno la vede sul registro di essere investiti lì in Combe. Per cui nessuno vede la lapide, mi ricorda. La cassa di Leopardi. Mentre, mentre Manzoni, Manzoni, ovviamente ha altre possibilità. E' un nome che... ...dentiene anche questo. Ma Alessandro Manzoni prende invece in affitto un palazzo che già era emerso. E il palazzo era sui piazzi. Quello di Giuseppe, prima parte, sull'un grado così. Su e viene per sciacquare con i panni in armo, come dice, per migliorare la lingua con cui ha scritto. Il suo romanzo diceva. I promessi sposi. Ma i promessi sposi, dove vengono complicati? E questo è un aspetto interessante. O tutti non ho scelto i promessi sposi. Ma i promessi sposi quando vengono complicati per la prima roba? Nel 1827. 1827. E Manzoni è abilissimo. Perché dove pubblica il suo romanzo? Certo. A Milano. A Milano. Ma a brevissima distanza. A pochi mesi di distanza. Dove lo pubblica? A Firenze. Per cui nel 1827. Firenze emerge incredibilmente. Un programma culturale. Leopardi. Manzoni. E noi vediamo. La duplice edizione. Detro mesi di scuola. Milano. Firenze. Contemporaneamente. Manzoni. Fa stampare. A Milano. E a Firenze. E a Firenze viene pubblicato il romanzo in forma tascabile. In forma tascabile in modo che una persona lo possa tenere in tasca. in tanti documenti. E lo possa. Mostrare. Leggere. E qual è la caratteristica dell'emissione florentina del 1827. E' la prima emissione illustrata. La destra. La destra. La destra. La destra. Vedete. Questa. E' di edizione del 1827. Un po' comunque. Questi sono due vetti tascati. Vedete. Si possono tenere in tasca. E. I pro questi scuoli. I stori amicalizzati del secolo XVII. Scoperto. E' riparta dalla testa. FIENZE ELATEMPRI 2,827. E qui. E qui. Una modessa immobilizzazione. Con Renzo. Scoperto. Non è un'immobilizzazione del movimento. Però è la prima. Edizione. Illustrata. E vedete. E vedete, è scritto abbastanza qui, ma qual è la caratteristica di quest'opera? E' che questi nomi, un viaggiatore, potevano portare un secco per tenere il cartonella in casa, perché lo vedete perfettamente in una casa. Ecco dunque come questo periodo è un periodo fascinante, perché l'inizio di Giorconto II è un inizio estremamente contento. Questo giovane grandunca è un uomo aperto, con le anze, di grande, cerca di valorizzare l'eredità a terra umana e cerca soprattutto di sviluppare le grandi potenzialità presenti in questo stato. Cosa prosegue Giorconto II? Questo è il nostro aspetto interessante. Sua vera, la grande passione del padre, gli incontri, strappare la terra all'elettronone, rendere il cultivo. E di Nardo III si è preoccupato della morte di Anna, e c'è la morte. Leoposo II non vuole occuparsi della morte. Preferisce un'altra zona, non meno del cultivo. Quale zona? Grosseto. Damai. In particolare Grosseto. Grosseto che rientra nelle sue prove più appassionate. Tanto che Giorconto II vorrà acquistare un aeroporto come tenuta. Un aeroporto come tenuta. Un aeroporto come tenuta. Non contanto da Grosseto, che molti di voi conoscono. E' un aeroporto come tenuta. Cioè il parco dell'Uccidina, quello che oggi è così chiamato il parco dell'Uccidina, è la proprietà privata di Giorconto II. Lui ha fatto piantare tutta questa linea, perché ovviamente i fini sono divati, sono piantati uno per uno, non sono naturali. Quindi vedete ancora oggi questa straordinaria eredità. E non a caso, se voi andate a Tossello, nella piazza del mondo di Tossello, cosa trovate? Trovate il movimento di Tossello. Proprio perché Tossello ha cercato di valorizzare il più possibile la marimba e di bonificare. Questo aspetto è un aspetto anch'esso di grande continuità rispetto al passato. Quindi Tossello inizia nel modo più interessante il suo periodo di proverso. Io mi fermo qui. Avete delle domande? Grazie. 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 Grazie.